Esiste una differenza di genere a livello di trattamento, perché come si può vedere ci sono molti più artisti uomini e molto meno artiste donne, anche se in questi ultimi anni sono state rivalutate, sono state innalzate come importanza. Però c'è ancora un problema di fondo, perché è stato realizzato uno studio qualche anno fa e sebbene nelle accademie il 70%, l'80% ora non ricordo, sia composto da donne e che escono anche con voti migliori, in realtà poi chi diventa effettivamente un artista e chi vediamo nelle gallerie, nell'arte contemporanea, in realtà sono più uomini. Quindi sì, c'è un problema di genere. Sicuramente.